Sequestrata la salma della 91enne che nella mattinata di ieri è precipitata dal balcone della propria abitazione al quinto piano di questo stabile in via Trento a Mercatello nella zona orientale di Salerno, tutto è accaduto nelle prime ore della mattinata. Per la donna sono stati inutili i tentativi di soccorso e quindi il trasporto all'ospedale Ruggi dove è deceduta poco dopo il suo arrivo per i traumi riportati. Ieri, dopo il tragico fatto, entrata in azione la polizia di Stato, fatto accesso all'appartamento della donna, gli agenti si sono messi al lavoro per ricostruire l'accaduto. Nessuna ipotesi inizialmente scartata dall'incidente al suicidio. Gli agenti della polizia di Stato di Salerno hanno provato a raccogliere nella casa dell'anziana più dettagli ed informazioni possibili, come detto, per cercare di capire che cosa sia accaduto. La donna viveva sola con una badante. Tra le ipotesi, quella dell'incidente sarebbe al momento la più plausibile e quindi una tragica fatalità. Ma cosa abbia determinato la caduta della donna? È proprio su questo che si sta indagando capire se, ad esempio, la 91enne possa aver accusato un malore oppure se si sia trattato di una fatale distrazione.